Residenti evacuati nella notte nelle colline attorno a Palermo a causa di diversi incendi che hanno minanciato ville e abitazioni. Una lunga notte di fuoco tra Poggio Ridente e Poggio San Francesco e ancora nelle zone di Bocca di Falco e Borgo Nuovo nei pressi della discarica di Bello Lampo. Anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha invitato gli abitanti a tenere chiuse le finestre a causa della nube nera che ha coperto questi quartieri. A Poggio Ridente una zona residenziale che domina il capoluogo alcune ville sono state fatte evacuare. Poi dopo l'intervento dei vigili del fuoco e della forestale i residenti sono rientrati nelle proprie abitazioni. Cenere e forte odore di bruciato anche in centro città. Questa mattina le fiamme sono di nuovo divampate su Monte Grifone. Dovrebbero intervenire i mezzi aerei che già ieri per ore hanno operato per tutta la giornata in diversi comuni della provincia. Nella notte è stata chiusa nuovamente anche la A19 tra Termini e Trabbia per diversi incendi appiccati nella zona dopo che lunghissime code di alcuni chilometri si erano formate all'ingresso dell'autostrada da Palermo per un rogo nella zona di via Giafar. Incendi ovunque con trada Cortevecchia, con trada Pistavecchia, con trada Bragone, Roccarossa o Zaman. Siamo tutti fuori per dare sostegno ai cittadini con il fuoco a pochi passi da noi. Un incubo con chiamate che si rincorrevano e che ci segnalavano sempre nuovi principi di incendi in zone sempre diverse, scrive il sindaco di Termini Merese Maria Terranova. Abbiamo attivato il centro operativo avanzato, un centro operativo che ho voluto costruire direttamente sui luoghi interessati dagli incendi. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma la Sicilia brucia per mano di ignobili criminali in un sistema che fa sempre più fatica a reagire. Siamo molto stanchi.